È una bella iniziativa, è importante, tre regioni che hanno sposato la rinascita del Giro d'Italia Under 23 e per noi è un momento di promozione del territorio, ci sono dei passaggi televisivi importanti, una vicinanza a giovani interessanti che stanno per fare un passaggio decisivo verso il professionismo, uno sport che è nell'animo dei marchigiani e che ci racconta anche sotto il profilo turistico. La dedica non possiamo che farla a Scarponi, che quest'anno purtroppo è un grande campione che non abbiamo più, ma che possiamo ritrovare negli occhi e nella volontà di questi giovani che correranno con la maglia delle Marche. Si promuove e si riparte anche? Certo, la promozione del territorio e anche ricostruzione, perché lo possiamo fare con i concerti, lo possiamo fare con lo sport, con manifestazioni nazionali, internazionali, richiamando la presenza del territorio delle Marche come regione da vivere attraverso questa vita sostenere l'economia che ha bisogno, che le persone tornino da noi a godere della bellezza del paesaggio, di un momento di spettacolo sportivo o per le ragioni per le quali sono tante e è bello venire nelle Marche.